io stavo in vacanza quindi stavo in estate stavo al mare quindi stavo vedendo la mia vacanzetta e mi arrivò una telefonata da parte di Sergio il quale mi invitava a venire a Roma dove stai che fai insomma perché non vieni ci abbiamo una cosa io sentendo che era direttamente lui regista che ti chiama in precipità è chiaro lasciai perdere tutto quello che volai a Roma e loro stavano al teatro cioè al teatro allo stadio Flaminio arrivai e mi disse c'era una figurazione c'era un vecchio panchinaro così qua là non avevano niente cioè non avevano una scaletta di una sceneggiatura da poter diciamo sviluppare un personaggio per poterlo mettere su quindi era un personaggio inventato cioè senza nessuna nessuna traccia insomma se vogliamo doveva un panchinaro anziano grighe bampi si doveva divertire un po sopra e c'era da una parte ci stava per carità ma dall'altra però bisognava costruire questa figura e nella pausa capitai io un attimo prima della pausa che loro andavano stavano facendo una scena dove i gemelli ritiravano su quindi la fine del primo tempo insomma ecco sono venuto questa scena qua delle palle che allora dico vabbè io vado un attimo in camerino mi faccio aiutare un po dai truccatori dai barrucchiere vediamo un po che cosa possiamo costruire e lì prendiamo dei beccucci di questi che seguono i capelli ferma capelli un po' di cerotto qua l'alla le orecchie mettiamo un paio di bar tutti i capelli all'indietro un po' di trucco qua e là mi si un calzoncino ma andai lì davanti a farmi vedere da sergio appena mi hanno visto tutti entusiasti e quindi da là nasce il personaggio nel senso che se io devo fare una posa conta cioè fa conto un giorno di lavoro soltanto poi sono diventate sette pose hai capito cioè quindi perché la cosa cominciava a piacere cominciava ogni volta che si girava e di fatti poi nel secondo nel secondo tempo quasi quasi tante chi tante chicche dove c'è un intervento ci sono insomma tante scene sono tutte quante girate un giorno diverso dall'altro ma il bianco in faccia c'era trucco sì 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 perché doveva essere un panchinaro inizialmente nel copione c'era un panchinaro anziano cioè quindi doveva mantenere l'anzianità però l'anzianità per poter far ridere per poter divertire eccetera non bastava per cui bisognava un po poi no e bianco anche perché io venivo dalla dal mare quindi parliamo di ferragosto quindi eravamo tutti tutti abbronzati insomma io guarda quella in quel film la ho lavorato benissimo nel senso che non mi sono trovato per niente a disagio che ti posso dire su questo se vogliamo parlare di disagio nella nell'interpretare un personaggio nel parlare insieme a un attore facendogli la spalla non mi sono trovato a disagio per niente mentre invece il disagio l'ho trovato nel secondo il secondo minore perché minore minore in quanto praticamente c'è stato delle battute che sono andate un po in giro nella nella discussione nei mormori diciamo della del 7 era quella che evidente che non c'era spazio per poter sviluppare evento un eventuale personaggio che potesse in qualche maniera rendere più simpatico tant'è che lo spazio che doveva divertire il pubblico lo hanno buttato sui gemelli che sono una cosa orribile cioè non si può vedere quindi quei dieci minuti che loro hanno dedicato lì a quello che diciamo quella sparata che fanno quel monologo cioè potevano potevano investirlo meglio no ma purtroppo il come il produttore la produzione che finanziava il film pare che sia una produzione vip chiamata che era proprio una produzione collegata a tutti i contratti che avevano con la falc con con totti con questi gemelli con parecchi vip diciamo che dovevano essere utilizzati all'interno del film c'è non era una produzione di di martino del fratello che di solito fa il produttore anche eccetera no è anche lui insomma l'ha fatto nel passato ma era una produzione che mettere paletti su tante cose quando io la sera prima che ci siamo divertiti lì al pranzo una bella cena lui cantò pure femmina c'erano tutti quanti gli attori se ognuno si esibiva e ci siamo un po divertiti io ho tentato cioè io ho suggerito a sergio davanti a lino stavano a loro da tavolo di poter sviluppare questo personaggio tipo non so io ho detto vabbè mettiamo questa questa gemella tant'è poi dico la stessa gemella siamo andati nei negozi addirittura a misurarci vestiti le scarpe c'è tutto questo lavoro inutile per poter poi restare lì impalato invece io dico beh la gemella ok facciamo una zitta della gemella gemella che si butta al limite poi dopo alla fine in braccio alla in quanto si innamora di questo di queste figure di questo mister no ma ci potrebbe essere un terzo gemello che magari c'è la gobba io che ne so che va fortuna che si che magari gira per i stati e vende gli amuleti per poter 10 centesimi per l'una per poter farsi accarezzare la gobba e tutte queste cose qua dove un mister capito c'è sa di questa cosa ma non è che lui prima lo vede lì al cimitero perché arriva durante la pioggia mentre c'è la pioggia che scatena di fulmini tutte queste cose quasi e scappano tutti arriva a sto fortunello che è identico a crisantene ma con la gobba che c'è a sto mazzo di fiori il quale il mister c'è rimane scioccato da scioccato e ammirato da questa figura da te che lo vuole lo vuole accarezzare ma non ci riesce per questo si alza lo guarda e se ne va e sparisce da lì nasce poi la ricerca da parte del mister di andare a capire dove questo personaggio potrebbe esistere potrebbe e portatevelo qua nel senso che e nell'ultimo e poi lo prendono per lo calo lo trovano appunto in uno stadio e lo prendono se lo lino se lo porta a casa lo tiene quasi in cantina roba del genere e poi lo riciccia quando fa l'ultimo incontro per poter salvarsi per salvarsi dalla dalla e tutto questo tutto questo niente dice sì vediamo un po facciamo vediamo piazzarono delle tre telecamere loro perché praticamente tre trecci ne prese per poter fare il dialogo tra me e lì no c'era la diciamo l'elemento io almeno pensai quello invece era era rivolto più ai gemelli non a noi due io un tentativo nelle prove l'ho fatto di interpretare questa zitellona che si butta nelle braccia di lui per poterla baciare ma lui lui è stato a meno il giorno dopo quindi può darsi che magari durante la notte chissà cosa sarà successo e io pensavo di andare verso quella quello sviluppo no dico tanto sono due scene perché una che questa dove dice io mi parlava spesso di te mio fratello no cioè mister di queste quattro battute che che c'erano che poi sono rimaste solo quelle ma nel frattempo che c'erano queste quattro battute più c'era la vioggia un passaggio di questo di questo individuo che sarebbe stato interessante perché poteva essere appunto un personaggio che poi potevi sviluppare o non sviluppare non te ne fregava niente l'importante ce l'avevi perché ero sempre io a me mi hanno addirittura ritruccato come i crisantemi perché dovevo fare la nuvola che poi non correva con i denti di vampiro quindi già ce l'avevi la figura non ci voleva niente nella stessa giornata a fare fare un passaggio di questo genere con un masso di fiori e la gobba dietro cioè non ci volevano c'era un passaggio non era non dovevi manco recitare e quindi poi nemmeno sfruttavi ci voglio dire avevi tempo per poter pensarci sfruttarlo e quindi sviluppare il film nel senso che lo rendevi veramente più interessante invece niente sono concentrati sul cinese è finita si no quello va bene quello ce l'ho sempre diciamo che parecchie volte mi trovo a essere presentato come al di là di antonino eccetera dicono ma sai questo chi è e quando scoprono chi so praticamente tutti ti chiedono quello proprio continuo ancora sì